la rassegna stampa è stata offerta da i sapori del vallo l'arte di fare la pasta www.isaporidelvallo.it buongiorno e bentrovati eccoci alla nostra rassegna stampa partiamo subito con il mattino in apertura sulla prima pagina ricoveri i progetti per il sud linee ad alta velocità strade porti e zone speciali ecco il piano dei cantieri regione per regione ponte o tunnel i quattro progetti per lo stretto di messina pregi difetti e costi di un'opera da fare il regolamento contestato con corsone della campagna c'è anche la prova d'inglese poi il piano nazionale del dalle energie rinnovabili la svolta per bloccare il divario con il nord centropagina lo sport il ritorno dello special one morigno sulla panchina della roma fino al 2024 poi il napoli la difesa finisce cappa oculi balie e maximovic fuori dalla volata champions rimaniamo sul centropagina con la ripresa del turismo draghi pronto il pass vaccinale vacanze in italia la carta verde sarà operativa da metà maggio campania a luglio hotel occupati solo al 20 25 per cento lo scenario i contagi in discesa ma ci sono ancora tanti rischi da evitare poi le verifiche sui numeri se le dosi se le 500 mila dosi sono un'eccezione e i conteggi un caso di taglio basso o napoli il grande ingorgo per il vaccino all'aeroporto ore di coda polizia alla mostra d'oltremare questa era la prima pagina del mattino andiamo a vedere ora in primo piano il rilancio del mezzogiorno il piano il ricoveri alta velocità porti strade zone speciali ecco il documento con tutti i progetti e i grandi cantieri regione per regione va individuata in campania la nuova stazione sulla linea salerno reggio le zest finalmente credibili all'alta velocità fino a reggio calabria taranto e lungo la sicilia il rafforzamento delle aree industriali la connessione con i porti visto attraverso gli interventi e progetti infrastrutturali previsti dal capitolo sud del piano riprese resilienze il mezzogiorno dovrebbe diventare nei prossimi anni un grande immenso cantiere di opere strategiche per la mobilità anche interna il decollo dell'economia del mare e qui che si spenderà il maggio la maggior parte degli 82 miliardi destinati al dal governo al meridione un pacchetto di investimenti mai tanto massicce e soprattutto mai tanto concentrati nel tempo e sugli obiettivi il next generation new fino al 2026 fondi strutturali europei e quelli del fondo sviluppo e coesione anche dopo sarà pure vero come dice qualcuno che puntare solo sulle infrastrutture non basterà al recupero di tutto il divario ma è innegabile che senza di esse anche il sacrosanto riequilibrio dei diritti dei cittadini sarebbe altrettanto impossibile e andiamo a vedere per quanto riguarda la nuova stazione da individuare sulla linea Salerno-Reggio che a partire da quello che sarà l'alta velocità la Salerno-Reggio Calabria permetterà alla regione di essere protagonista dell'intervento infrastrutturale più significativo che rappresenta un enorme passo in avanti per il completamento dell'alta velocità in tutta Italia ma lo stesso accadrà anche per la Basilicata grande punto di snodo per le grandi regioni che si affacciano sul terreno e sull'Adriatico rappresentando anche il fondamentale punto di accesso per la Calabria beneficerà di conseguenza degli interventi sulle grandi direttrici nord-sud le cosiddette connessioni diagonali oltre a specifici interventi sulle linee regionali e sulle stazioni dunque c'è ancora da decidere va individuata la nuova stazione. Rimaniamo sempre su questo argomento di taglio basso su questa pagina tre ponti e un tunnel e quattro ipotesi per lo stretto di Messina. Ultimati i lavori della commissione di tecnici voluta dall'ex ministro delle infrastrutture Paola De Micheli ritenuta troppo rischiosa invece l'ipotesi della galleria sottomarina su cui aveva puntato l'ex premier Conte. Lasciamo questa pagina, rimaniamo ancora sul mattino, andiamo a vedere il decreto sostegni. Sfratti lo sblocco beffa, salvi dalle esecuzioni anche i morosi pre-Covid, i provvedimenti adottati durante la pandemia congelati fino a fine anno, ma in molti casi si tratta di procedure avviate mesi prima dell'arrivo del virus. Per qualcuno è un primo passo, una luce in fondo al tunnel dei 14 mesi consecutivi di blocco degli sfratti, per qualcun altro, come per esempio con fedilizia, l'emendamento approvato ieri al decreto sostegna il sapore della beffa. Il blocco degli sfratti proseguirà anche dopo il 30 giugno, non per tutti, a rimanere congelate fino al prossimo 30 settembre, spiegano, saranno le procedure adottate dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre dello stesso anno, le procedure adottate invece dal primo ottobre del 2020 fino al 30 giugno di quest'anno rimarranno bloccate fino alla fine del 2021. Le procedure antecedenti a febbraio del 2020 potranno riprendere. L'intenzione del governo era quella di lasciare nel freezer soltanto gli sfratti maturati durante il covid, quelli che troverebbero la loro giustificazione nella crisi economica che si è manifestata durante la pandemia. E andiamo avanti ancora sul mattino. In Campania, rebus stranieri a luglio prenotato il 25%, la ripartenza difficile degli alberghi che riapriranno a pieno regime a giugno. Gli arrivi dall'estero spostati in avanti gli annotti, ma Draghi ci fa ben sperare. Grazie a Draghi, gli operatori del turismo guardano al Premier ai suoi messaggi e tirano un sospiro di sollievo. Finalmente il turismo può contare su Palazzo Chigi. Diciamo grazie a Draghi, dice Costanzo Iaccarino, presidente campano di Federalberghi, perché finalmente abbiamo un governo che lavora per il nostro settore. Delle due date annunciate dal Premier, quella che ci interessa di più in Campania è sicuramente la seconda. Il nostro turismo è per l'80% legato ai flussi stranieri. Certo, rimettere in moto anche il mercato italiano è importante per le riaperture, per cominciare a riaprire le finestre degli alberghi. Giugno e quasi tutto il mese di luglio sarà il turismo di prossimità, soprattutto italiano, che si metterà in moto, ma non andremo oltre il 20-25% della nostra capacità ricettiva. La conferma che arriverà un pass europeo comunque ci fa ben sperare a questo punto per agosto e settembre che le cose andranno meglio. Con questo lasciamo il mattino, ci spostiamo sul quotidiano del sud. In apertura il sogno granata con un piede in A. Il colpo contro il Pordenone avvicina i ragazzi di Castoria alla promozione, una grande prova di carattere riaccende in città entusiasmi ormai sopiti da anni. Andiamo sul centro pagina ore 13 al centro di Torrione Alto, spari e terrore davanti alla scuola per bloccare due malviventi in fuga. Di lato 195 positivi nel Salernitano ricoveri in calo, poi i vaccini così occultano la maglia nera. Sempre di lato Eboli, l'odissea di Cristian malato di Sla a nove anni, l'asl assente e lontana. Pestum è tornato il caos del traffico nel cuore della città antica e Nocera inferiore a Palti in Irpini e rischiano il giudizio gli imprenditori. Izzo. Lasciamo la prima pagina e andiamo a vedere in primo piano Campania lontana dal resto d'Italia. De Luca, calcolo vaccinati, il governo sbaglia e ora ci segue. Regione ultima con i criteri vigenti nel paese e prima per positivi. Non è la Campania a doversi adeguare all'Italia ma l'Italia a doversi allineare alla Campania, così parlò De Luca sul controverso terreno dei vaccini. Un campo minato, secondo le stime come il report indipendente della fondazione Gimbe, la Campania è ultima per popolazione immunizzata. Una maglia nera condivisa con Puglia e provincia autonoma di Trento. Il criterio di calcolo è tarato sull'obiettivo finale, l'immunità di gregge. Per il governatore però così non va. Bisogna cambiare subito parametri, adottare quindi quelli vigenti nella sua regione, un sistema da cui per pura coincidenza la Campania non esce affatto male. Spostiamoci ora sul quotidiano la città. In apertura sulla città, banditi in fuga, spari tra la folla, davanti scuola, terrore a Salerno, pistolettate contro i carabinieri, i colpi all'uscita degli alunni, caccia a due persone. L'emergenza epidemia, vaccinazioni allo stadio Arechi, il medico lascia e accusa è un caos. Una unità mobile allo stadio Arechi per dare un'ulteriore sprinta alla campagna nel capoluogo ma pure un calendario definito per evitare caos e assembramenti agli ambulatori sparsi in tutta la provincia e l'iniziativa dell'ASL mentre a San Severino un medico lascia il centro vaccinale e accusa è un caos. Fermi per un toner. Di lato troviamo lo sport, ha un passo dal sogno Salernitana, blitz e secondo posto. Il match winner, tuttino di rigore, Pordenone, K.O. sicuro del gol, poi il condottiero, la gioia isolata di mister Castori, dedica a Bocchini e i tifosi, delirio granata al campo Volpe, zitta se ne va. Di taglio basso andiamo a Nocele Inferiore, guerriglia in centro, si indaga scontro tra giovani con spranghe e mazze dopo il coprifuoco. Eboli, infine Eboli ex pellegrino Donenzo Cariello paga i danni. Lasciamo la città, diamo a Bocchiata alla prima pagina di cronache. In apertura lo sport, vittoria a Pordenone, sfrattato in Lecce dal secondo posto, decide tuttino sul rigore, venerdì prima finale con l'Empoli. Centropagina, la politica, le amministrative, l'Udc si chiama fuori e apre al sindaco Napoli, Polichetti, centrodestra nullo, con tedesco un film già visto. Dure accuse, a Forza Italia e Lega, Luciano del PD apre, se sono rose fioriranno. Centropagina, Salerno, Far West, Torrione, spari in aria per catturare due banditi. E poi la storia del piccolo ebolitano, l'Asla aiuti Cristian, effetto da smattipo 1, ha bisogno di cure costanti ma è un'assistenza sulla carta. Di taglio basso, cronache, salute, l'autismo, Niccolò, non dite che ho il disturbo dello spettro autistico, io sono autistico, la battaglia dei genitori. Poi l'intervista, il PM Lenza, non c'è giustizia per la piccola Yolanda, infine domenica con la traviata, il soprano di Sarno, Gilda Fiume, riparte dal Teatro Reggio. E termina qui la prima parte della nostra rassegna stampa, ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, diamo la linea alla regia. Rieccoci tornati in studio, riprendiamo la rassegna stampa con la prima pagina del mattino di Salerno. Spari all'uscita di scuola, panico a Torrione, truffatori inseguiti dai militari bimbi fatti rientrare di corsa nell'istituto, uno dei banditi esplode, colpi in aria, un carabiniere risponde mirando agli pneumatici. La sentenza, guerriglia in carcere, condannati sette detenuti. Di taglio alto a due passi dal sogno, Salernitana, blitz e sorpasso su Lecce, il rigore decisivo di Tutino al 96esimo fa esplodere la gioia in città, ora la promozione in Serie A dipende soltanto dai Granata. Torniamo sul centro pagina, la pandemia reste da liberi tutti, in cubo imprenditori non chiuderemo, ancora pandemia, vaccini free agli over 60, punto mobile alla Rechi. E poi la storia, il sogno di Amin diventare sindaco di Agropoli, a 21 anni, è il primo straniero che punta alla fascia tricolore. Lasciamo la prima pagina e vediamo. Andiamo a Monte Corvino, Rovella, con la cronaca, truffa dei fondi europei, sigilli ad un'azienda di prodotti biologici. I carabinieri del NAC sequestrano a maisto oltre un milione. l'imprenditore aveva realizzato serre senza autorizzazioni. Ad Eboli, casa del Pellegrino, chiesto il processo. Andiamo a Battipaglia, blizzi in comune, nel Mirino, piani del più Europa e l'uso delle auto. Atena-Lucana, rifiuti, controlli sui terreni dell'inchiesta. Ieri mattina i tecnici dell'ARPAC, su disposizione della Procura di Potenza, hanno avviato i carotaggi sui terreni interessati dall'inchiesta, che ha portato all'arresto di sette persone. E poi andiamo a Ponte Cagnano-Faiano, ecodistretto, nuova location in Litorania, furia balneatori, tomba per il turismo. A Battipaglia, spaccia eroina, in cambio di dieci euro, preso Puscher. Vallo della Lucania, perse un occhio sul lavoro, giustizia dopo cinque anni. Lasciamo con questo il mattino e ci spostiamo sul quotidiano del sud, con la cronaca a Salerno, colpi di pistola davanti alla scuola Alemagna. Due uomini non si fermano al controllo disposto dai carabinieri e scappano. I malviventi si danno alla fuga sparando proiettili in aria. Dalle prime indagini erano da poco reduci da una truffa. Momenti di vero e proprio panico. Ieri, dinanzi ad una scuola del quartiere Torrione Alto, genitori e bimbi hanno assistito ad un inseguimento in piena regola con tanto disparatore. È stato davvero un miracolo se nessuno si è ferito, ma erano circa le 13 quando una pattuglia della sezione radiomobile dei carabinieri nel corso delle consuete attività di controllo sul territorio ha tentato di controllare un'autovettura. I militari si erano insospettiti per la presenza di quella macchina e volevano vederci chiaro. Scendono quindi dall'auto di servizio con l'intento di fermare l'auto e fare i normali controlli ma ecco che accade quello che nessuno si sarebbe mai aspettato. I due uomini comprendono di poter essere fermati e si danno alla fuga. Uno dei due scende dall'auto e inizia a correre con l'intento di dileguarsi tra la folla dato che era orario di uscita dalla scuola e c'erano diverse persone nel tentativo di far perdere le sue tracce ai carabinieri che lo stavano inseguendo. Dalla tasca gli cadono diverse banconote. Nel frattempo l'altro uomo alla guida dell'auto forse per farsi spazio e fuggire più velocemente spara due colpi in aria scatta quindi il panico. E rimaniamo sul quotidiano del sud. Andiamo a Capaccio Pestum. Auto, moto e bici libertà torna il caos nell'area antica. I residenti denunciano alfieri assicura interventi urgenti, soluzioni alternative. C'è chi propone di rendere pedonale anche la parte medievale di Tavernelle. Andiamo a Sala Consilina. Rifiuti interrati al via i carotaggi dell'ARPAC nel Vallo di Diano e poi rimaniamo sempre nel Vallo di Diano. scuole a Singhiozzo i comuni provano a dare risposte. Castellabate, sport acquatici, gemellaggio tra due enti e di taglio basso Polla, servizi di base per l'infanzia, il via il polo unico del Diano hanno aderito all'idea Caggiano e Pertosa. Favorire la ricostruzione e il potenziamento di comunità educanti in grado di offrire risposte organiche integrate e multidimensionali ai bisogni educativi. E questo è l'obiettivo del bando per le comunità educanti. Spostiamoci ora su Cronache. Concorsone. Oggi una nuova protesta. Boom di mail da parte dei vincitori della prima prova per chiedere di poter concludere il percorso già avviato da mesi. Ci sentiamo presi in giro con il decreto Brunetta. Era una sola prova e basta. Lanci, Campania ed enti coinvolti hanno richiesto l'urgente semplificazione. Continua a trascinare con sé una serie di polemiche. Il concorsone Ripam indetto dalla regione Campania per collocare 2.270 dipendenti nell'ente regionale in quelli locali. I vincitori del concorso stanno alzando la voce per chiedere di poter proseguire il percorso dopo aver superato la prima prova del maxi concorso. Dopo una prova preselettiva e una prova scritta con sbarramento dei 170.000 partecipanti sono rimasti circa 1.870, meno dei posti messi a concorso. Ad oggi manca meno di un mese dal completamento del tirocinio di 10 mesi presso le amministrazioni e molti partecipanti puntano il dito contro i vertici di Palazzo Santa Lucia e la Formez Ripam ammettendo di sentirsi presi in giro. Andiamo avanti sempre su cronache. Il dossier in Campania circa il 39% dei minori vittime di maltrattamenti in famiglie. È stata delineata per la prima volta dopo un anno di pandemia la fotografia allarmante del nostro paese. Regione stabile in ventesima posizione registra il peggior livello in Italia presentato il quarto dossier Cesvi a livello nazionale e regionale. Montecorvino Rovella con la cronaca maxiconfisca per un imprenditore agricolo aveva falsamente dichiarato nella relativa domanda di aiuto di possedere i requisiti previsti dal bando di attuazione della PSR Campania. Andiamo a Capaccio. Centro vaccinale chiuso, respinte, oltre 40 persone già prenotate la protesta dinanzi ai cancelli. Protesta ieri mattina davanti al centro vaccinale di Capaccio Pestum allestito presso la palestra comunale in Viale della Repubblica dove una quarantina di persone regolarmente prenotate tramite la piattaforma regionale hanno trovato i cancelli chiusi. Solo intorno alle 10 dopo aver allertato i carabinieri della stazione locale un incaricato dell'asla affisso un foglio all'esterno della struttura invitando tutte le persone a tornare alle ore 15 per problemi tecnici innescando così la rabbia dei presenti. rimaniamo su questa pagina il gemellaggio circolo nautico punta Tresino e Castellabate a vela è lo scopo per promuovere gli sport acquatici. Eboli smaltimento illecito di acquerefloi una denuncia e infine Sapri il sindaco revoca l'ordinanza del divieto di balneazione effettuate le successive analisi le acque della baia sono risultate nuovamente balneabili. E termina qui la nostra rassegna stampa vi ringrazio per essere stati con noi vi auguro buona giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.